Intanto sono felice che questo gruppo può iniziare con primo MHC, che ogni bienio toccano due a loro fase di preparazione per gli europei e così intanto possono vedere cosa vuol dire a livello internazionale, come sono le altre squadre, non sarà facile perché hanno cambiato sistema di campionato, perciò giocheranno otto partite in una settimana minimo, incontreranno tutte le squadre che Spagna, Slovenia, Croazia, comunque un bel debutto e spero che si faranno vedere e che non faremo la figura proprio. Purtroppo per diversi motivi non abbiamo avuto possibilità di vederci prima, ma spero che questo gruppo, sicuramente dopo anche una selezione più specificata, avrà belle possibilità di lavorare prima di qualificazioni. Una cosa ispirazionale che volevo sottolineare è il fatto che si sono allenate almeno per qualche giorno, per qualche allenamento, anche in vicinanza con la Nazionale Seniores che è qua in Raduno, quindi con la possibilità di vedere il sogno, l'ispirazione della Nazionale più grande. Io spero che loro hanno sogno di fare in futuro pallamano e di diventare grande. Io spero, sempre i giovani oggi hanno meno queste ecco, arrivano punti quelli che gli piacciono di più, ma io mi auguro che ora che hanno preso questa cosa su petto, che li porterà a credere, giocare e volere questo sport fino alla fine in senso loro carriere, non che solo ora, giovanili e poi dopo due anni smettono.